Grazie a tutti. Grazie per lo più dai suoi scritti. Tra l'altro ne approfitto per dire che sarà con noi a Torino per la prossima edizione di Biennale Democrazia che si svolgerà alla fine del mese di marzo. Non so che data sia. Mi pare un sabato. Non riesco a trovarla. Non riesco a trovarla. Un popolo, una società politica, una società civile dovrebbe muoversi per rispettare, per conquistare alcuni risultati di natura anche ideale. Ma la nostra Costituzione ha una caratteristica particolare che è un documento polemico. non è un documento irenico. Ci dice che la prospettiva che nel 1946-47 i costituenti hanno individuato dopo la Seconda Guerra Mondiale, questa prospettiva non corrisponde alla realtà del nostro paese. e per questo si dice che è una Costituzione polemica. Basterebbe ricordare l'articolo celeberrimo 3,2 che è stato poi anche imitato in tante altre Costituzioni. Questo articolo che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i lavoratori. Tutti i lavoratori nella prospettiva costituzionale saremo tutti noi perché il lavoro è un diritto, dice la Costituzione, ma è anche un dovere. Ecco, la partecipazione di tutti i lavoratori alla vita civile, politica, economica, culturale, tutto quanto. Quindi questo è un articolo che ci dice che essendoci un compito da svolgere la realtà non è ancora quella. Quindi chi agisce secondo la Costituzione dovrebbe mettere in atto politiche di trasformazione sociale per raggiungere quell'obiettivo. E questo lo dico perché viviamo in un momento in cui la Costituzione è diventato un tema, se ne parla, posso dire, se ne parla troppo, e se ne parla qualche volta a sproposito e qualche volta in luoghi non adatti a parlare di cose serie. C'è il rischio che venga trasformato in una specie di totem, però svuotato di contenuto. Forse state pensando a qualche cosa che abbiamo potuto verificare nei giorni scorsi. Quando si è fatta la lettura di due articoli con un tono enfatico, entusiastico, non faccio nomi, non ce n'è bisogno. Però si è fatta una strana operazione. Questi due articoli che sono stati letti, che sono l'articolo 11 che riguarda la pace e la guerra, e l'articolo 21 che riguarda la libertà di espressione, dei propri convincimenti, questi due articoli sono stati letti parzialmente e come se tutto andasse bene. Allora, questo libro... Come? Non è d'accordo? Cioè? E se è importante questo periodo? Parlarne, ma non c'è dubbio. Però c'è modo e modo, luogo e luogo per parlarne. Quello che io temo è una riduzione della Costituzione a luogo comune, luogo comune che perde però il suo mordente. Allora, questo libro... Ed è questa una situazione in cui devo dire, posso fare una considerazione personale. Qualche tempo prima che si verificassero queste ultime cose e anche prima che uscisse il libro di Gerardo, adesso ne parlo, io mi sono detto io non voglio più avere a che fare con la Costituzione. Io che ho per più di 50 anni, in realtà era un po' una buttanda, insomma, ma per dire che c'è un clima attorno alla Costituzione che è pericoloso per la Costituzione medesima. Perché la Costituzione, ripeto, dovrebbe essere letta nella prospettiva di una critica dell'esistente, di un miglioramento dell'esistente. Allora, questo libro, che io non sapevo che avrei ricevuto in questi ultimi giorni, cade proprio in questo momento, nel momento in cui c'è bisogno che ci si renda conto che la Costituzione, come è stata pensata e elaborata, è una cosa. 60 anni di vita costituzionale, sono 60, quanti sono? Quello che è, l'hanno in realtà in qualche misura svigorita, l'hanno piegata al contingente. E quindi, se noi leggiamo la Costituzione e guardiamo la realtà, ci accorgiamo di una distanza che fa impressione. Questo libro è intitolato Anticostituzione e non è un libro contro la Costituzione, anzi, sotto sotto, penso che il tuo impegno civile consiste nel dire questo. C'è questo scarto e non bisogna demordere dal continuare a lavorare per cercare di avvicinare realtà e desideri costituzionali. Come direbbero i giuristi, l'essere al dover essere. Quindi, voglio dire, penso che ci rivedremo ancora con Gerardo magari proprio qui per parlare di questi temi in avvenire. Dunque, come è costruito questo libro? C'è da una parte, in una colonna, il testo della Costituzione. Nella colonna opposta c'è come dovrebbe essere scritto quel tale articolo e un commento articolo per articolo non ci sono tutti, naturalmente, perché ci sono degli articoli nella Costituzione solo tecnici, insomma, se la Costituzione dice che il Consiglio Superiore della Magistratura dura in carica quattro anni, cosa volete che si... Ma, insomma, soprattutto le grandi norme di principio, ecco, sono, il quadro, quelle davvero fondamentali, sono indicate nella colonna di sinistra, nella colonna di destra, sono riscritte tenendo conto di quello, non che c'è scritto, ma di quello che è, ecco, per far capire lo scarto. Vi faccio solo, naturalmente, non posso ripercorrere tutto, ma vi faccio solo due, anzi, forse tre esempi. cominciamo dall'articolo 1, fondamentale, no? Lo conosciamo tutti a memoria. Bravo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. questo è il testo della Costituzione sul quale si potrebbero scrivere trattati, a cominciare dal commento della parola Italia, cioè, voglio dire, nei manuali di diritto costituzionale si dà per scontato che si sappia che cosa è l'Italia, ma uno può avere una nozione geografica, una nozione etnica, una nozione culturale, insomma, su tutti grandi temi, l'Italia è una repubblica democratica. Allora, la riscrittura è questa, leggo la quarta di copertina, non perché abbia letto solo la quarta di copertina, sia ben chiaro, la riscrittura, l'Italia è una repubblica democratica a tendenza monarchico-feudale, fondata sul lavoro e sulla rendita. La sovranità appartiene al popolo che tende a evitare e di esercitarla per non essere chiamato a risponderne. Ecco, ditemi voi se questa, diciamo, se la Costituzione dovesse essere lo specchio della realtà, se questa formulazione non è più adeguata di quella originaria. Questo libro non solo contiene una riscrittura dei singoli articoli, ma ogni riscrittura è poi spiegata, è commentata, con un tono molto pacato, voglio dire, io sarei perfino un po' più iracondo, ecco, diciamo, ma invece tu hai uno stile così discorsivo e persuasivo, è una caratteristica non solo dei suoi scritti, ma anche del loro autore, che ce lo rende particolarmente gradito e caro. Questo per l'articolo 1. Prendiamo, dicevo, l'articolo 11, che è uno di quelli più tormentati oggi, come voi sapete, perché quello che succede in Ucraina è l'impegno che l'Italia ha nel nostro, in questo momento, in quella guerra, ha posto degli interrogativi profondi alla Costituzione. L'articolo 11, quel famoso l'Italia ripudia, l'Italia ripudia, lo sapete tutti, non ha conoscenza in memoria, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ripudia la guerra, che poi procede dicendo che quando nascono delle controversie la via maestra, anzi, l'unica via per risolvere le controverse internazionali non è quella dell'aggressione bellica ma è quella della trattativa diplomatica, non lo leggo tutto. Riscrittura di Gerardo Colombo, l'Italia ripudia in linea di principio la guerra, sottolineo questa specificazione, in linea di principio che vuol dire che in linea di fatto potrebbe andare diversamente, ripudia in linea di principio la guerra come strumento alla libertà degli altri popoli e talora come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, eccetera, eccetera. Consente alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni anche attraverso l'uso delle armi, ecco, si ripudia la guerra ma chissà mai anche, ecco, e c'è tutta una trattazione, trattatelli di diritto costituzionale sono quelli che seguono, che spiegano l'origine di queste norme, le conseguenze che si ne dovrebbero trarre. Ripeto, quando si fa l'elogio diciamo così poetico della Costituzione bisognerebbe leggere integralmente i suoi e poi l'articolo 21, l'articolo 21 è quello che riguarda la libertà di manifestazione del pensiero. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Riscrittura. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di sbeffeggiare e di insultare con la parola, lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione. I mezzi di diffusione possono pubblicare qualsiasi notizia comunque appresa, qualunque ne sia l'oggetto e anche oltre il rispetto della riservatezza e della dignità della persona. Io mi permetterei di aggiungere e anche indipendentemente dalla verità non dico della verità che è una parola della veridicità insomma indipendentemente dal fatto che vengano controllate le notizie che si danno in fatto ecco e anche qui c'è una bella disquisizione sull'importanza di questa libertà in una democrazia liberale è un discorso importantissimo che poi si scontra per esempio anche con l'organizzazione imprenditoriale della stampa la concentrazione della stampa e soprattutto questo articolo 21 si dovrebbe collegare agli articoli che vengono su molto dopo in materia di istruzione di scuola perché sarà pure una bella cosa avere il diritto di manifestare il proprio pensiero ma prima di tutto bisogna avere dei pensieri avere dei pensieri e dov'è che si coltivano i pensieri se non nella istruzione se non nella scuola la depressione della nostra scuola è tale per cui questo diritto rischia di rimanere campato per aria se uno se ciascuno di noi non ha i mezzi e neanche il desiderio di esprimere il proprio pensiero semplicemente perché il pensiero non ce l'ha questo tra l'altro ci dice come la nostra costituzione è molto armò in questo senso è un'opera d'arte perché una parte corrisponde si richiamano le diverse parti proprio come in una struttura architettonica io avrei finito è sottinteso che il fatto solo che io sia qui non è solo per amicizia personale ma perché questo libro effettivamente è importante perché ci fa riflettere proprio sul dove siamo andati e a finire in tanti campi come si pensava in origine che avremmo dovuto andare a finire ci fa riflettere su questo su questo scarto e questa riflessione è fondamentale affinché la costituzione non diventi semplicemente un testo letterario un testo che si cita perché perché è bello citare c'è un luogo comune ecco guai alla costituzione che diventi un luogo comune quindi grazie di lo dico io penso interpretare il pensiero di tutti quelli che sono presenti che lo hanno avuto tra le mani o che lo avranno penso di interpretare questo sentimento ringraziando Gerardo calorosamente per questo suo ultimo diceva il nostro presidente ultimo lavoro ultimo ultimo quello che ha scritto da ultimo ma tanti altri testi seguiranno grazie 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 davvero grazie tantissimo per questa presentazione del libro che mi onora molto perché poi sentendo queste parole da te è importante allora cosa vi dico io che ha già detto tutto il professor Zagrebreschi io potrei parlarvi di come è nata l'idea di scrivere questo libro e potrei star qui anche parchio perché è una storia alla fin fino una storia abbastanza lunga nel senso che io ho fatto il magistrato ho fatto il giudice poi il sostituto procuratore della repubblica il pubblico ministero poi ancora sono tornato a fare il giudice in Cassazione per 33 anni e quindi ho avuto cosa che dico tra parentesi sperando che vada bene comunque cosa che non succede a tutti anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia ho avuto contatti frequentissimi con la costituzione mi è successo più volte di presentare o proporre questioni sulla legittimità costituzionale di una legge credo che voi sappiate tutti quanti che la costituzione è la nostra prima legge e richiede obbedienza a tutte le altre leggi ragion per cui chi ha scritto la costituzione ha anche introdotto un organo la corte costituzionale il cui compito è quello di verificare se le leggi che arrivano davanti a lei sono o non sono rispettose della costituzione e se non lo sono il compito della corte è quello di dichiararne l'incostituzionalità e di far necessare gli effetti e cioè possiamo dire in un altro modo se volete anche un po' da strada buttarle via è il punto di riferimento la costituzione di tutto il sistema delle nostre regole che non sono soltanto le leggi gioca un luogo secondo me anche importante la consuetudine è prevista come fonte del diritto alla consuetudine non ci sono soltanto le leggi e la costituzione è proprio l'organizzatrice del sistema essendo essa stessa un sistema l'ha richiamato anche almeno un paio di volte il professor Zagrebeschi questo senso del sistema della corrispondenza per esempio dell'articolo 34 che è quello che parla di istruzione con il principio fondamentale che a mia parere sta nell'articolo 3 che è il riconoscimento della dignità universale e quindi il bando assoluto della discriminazione ecco cosa mi è successo in questa prima parte prima insomma facciamo seconda perché prima ho studiato poi sono entrato in magistratura io mi sono dimesso poi 15 anni prima della mia 14 e qualche mese prima della mia scadenza naturale sarei andato in pensione a 75 anni sono andato a 60 quasi 61 e ho avuto sto avendo diciamo così una terza vita ecco la mia esperienza da magistrato e anche quella di questo altro pezzo di vita mi ha sostanzialmente obbligato direi a scrivere questo libro perché tante tante volte io ho potuto constatare quanto esistesse di differenza tra quel che sta scritto nella Costituzione e quel che succede che ho ritenuto che fosse necessario cercare di stuzzicare sollecitare attirare l'attenzione su questa separatezza su questa veramente delle volte è addirittura quasi un'antinomia no? tra quel che dice la nostra prima legge è quel che a volte è legislatore a volte noi facciamo di assolutamente sconnesso e molto spesso di contrario a quel che dice la Costituzione per fare un esempio il professor Sarklimeschi ha letto la seconda parte oltre alla prima anche la seconda parte dell'articolo 1 la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione insomma voi qui non avete avuto le elezioni una settimana fa io le ho avute il quasi il 60% delle persone si sono astenute dal votare e allora vedete come il libro l'avevo già scritto no? questa è una specie di riprova del fatto che ebbe assumersi la responsabilità di esercitare la sovranità è una cosa che non piace tanto poi magari con tutte le scuse possibili e immaginabili però non andare a votare significa non volersi assumere la responsabilità di esprimere la propria voce che se a qualcuno non piace nessuno di coloro che si presentano ebbe fa bene a non votare nessuno e però io credo che sia veramente obbligatorio dal punto di vista proprio della accettazione del sistema esprimerlo attraverso la propria partecipazione ci si reca alla propria sezione elettorale si prende la scheda si evita di compilarla o la si annulla anche perché ogni tanto qualcuno forse delle volte chi lo sa il sospetto non si fida che mettere dentro una scheda bianca poi rimanga bianca allora la si annulla e si fa sapere che ci si è alzati si è camminato si è arrivati e si è espressa la propria opinione che è qualcosa di più di un'opinione perché il voto è il luogo è lo strumento attraverso il quale si delegano le persone a esercitare l'amministrazione della società guardate che non succederebbe così no delle volte succede anche nei condomini purtroppo stavo dicendo non succede così diciamo succede molto meno nei condomini perché lì è più immediato il rapporto no e se l'amministratore non va bene lo si tiene sotto controllo perché perché è più diretto anche il rapporto tra le spese condominali e chi lo sopporta e io credo che sia necessario proprio indispensabile indispensabile se si vuole che il nostro sistema funzioni la costituzione conoscerla che non vuol dire imparare a memoria vuol dire conoscere il sistema e applicarla e conoscerla partendo dall'inizio vedete la costituzione tu vuoi che dialoghiamo o Gustavo vado avanti eh no ma anche io delle volte ho una responsabilità così mi viene da scappare delle volte la responsabilità che sia nelle mie mani tutta la adesso mi se lo tolgo sì no di più va bene ma se vuoi puoi farlo anche adesso dai no dopo 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 per osservare la costituzione credo che sia assolutamente necessario riuscire a capire perché l'hanno scritta così perché guardate che fino al giorno prima in modo figurato se volete e lo stare insieme era completamente diverso stavo vedendo ho finito di vedere ieri una serie televisiva che parlava di una signora di una ragazza che proprio qui a Torino aveva studiato si era iscritta esattamente ti sembra? ma prego beh era di qualche decennio prima dell'entrata in vigore della costituzione però attenzione perché così la cultura generale era ancora quella se ci sono voluti 27 anni dopo l'entrata in vigore della costituzione per modificare l'articolo 144 del codice civile che diceva e ha continuato a dire per 27 anni dopo l'entrata in vigore della costituzione il marito è il capo della famiglia e la moglie deve seguirlo ovunque fissi la residenza ecco è intervenuta su questo su questo tessuto legislativo la costituzione per stare alla differenza di genere era reato l'adulterio femminile e non l'adulterio maschile allora ma come mai perché gli è venuto in mente di scrivere una costituzione che invece all'articolo 13 dice principio l'uno e il due stanno prima come numeri ma stanno dopo come logica come sistema che tutti quanti noi siamo importanti come gli altri e che in conseguenza basta discriminazione questo bando della discriminazione che è stato invece il principio aggregatore della società fino a quel momento non dimentichiamoci che le leggi razziali precedono la prima legge razziale perché poi sono andati avanti fino al 42 e anche oltre nella Repubblica di Salò ma la prima precede di 8 anni l'inizio della scrittura della Costituzione e di 10 anni l'entrata in vigore della Costituzione perché gli è venuto in mente e se noi non riusciamo a capirlo ma perché mai dovremmo seguire la Costituzione perché mai dovremmo dire sì è necessario che ciascuno sia degno come gli altri e lì io credo che bisognerebbe lavorarci e il punto di partenza sta nella cercare di entrare nella mente di coloro che la Costituzione hanno scritto e per entrare nella mente di coloro che la Costituzione hanno scritto beh è necessario guardare la loro vita pensate che rilievo ha avuto per loro la bomba atomica io che vedete sono abbastanza avanti negli anni beh quando sono nato la bomba atomica c'era già ci sono i terremoti c'è la bomba atomica ci sono le pandemie e c'è la bomba atomica beh insomma come se si trattasse quasi di un evento naturale c'è la bomba atomica per loro no è successo che un giorno nell'agosto del 1945 il mondo ha appreso che era stata creata un'arma tanto potente da fare in un attimo quel che prima avrebbe richiesto anche degli anni e in quale contesto dopo sei anni 39 40 41 42 43 44 45 sei anni di guerra che loro quelli che hanno scritto la costituzione quasi tutti avevano sperimentato anche da adolescenti o da bambini perché c'è uno stacco di 21 anni dalla prima alla seconda guerra mondiale e sono andato a vedere l'età dei costituenti e tanti sono nati prima del 1900 nel secolo precedente il tutto vivendo il periodo in cui programmaticamente sono stati uccisi a milioni coloro che non erano graditi al potere di allora è per questo che di fronte alla domanda ma come possiamo avere un futuro la risposta è stata e un futuro possiamo averlo soltanto se bandiamo la discriminazione e allora se vedete la costituzione è scritta così non soltanto c'è qualche sbavatura è per carità era anche 75 anni quest'anno è il 75esimo anno dell'entrata in vigore dall'entrata in vigore della costituzione qualche sbavatura c'è però dato il principio tutte le persone sono degne quanto le altre si traggono le conseguenze l'Italia articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo dell'uomo e della donna nel senso che l'uomo è human being essere umano ragion per cui è questo qua è un armi cioè volevo vedere l'avvocatessa poeta cosa ti avrebbe detto è una provocazione hai provocato no ma figurati adesso io devo smettere perché sennò perdo il treno e poi mi nervosisco se perdo il treno e non devo certo però sai che il dovere essere l'essere hanno degli impiccioni tanti stiamo parlando di quello e siccome tutti quanti sono degni allo stesso modo allora la scuola è aperta a tutti e siccome tutti quanti sono degni quanto gli altri allora il domicilio di tutti è inviolabile poi c'è un problema che sta prima consistente nel fatto che magari non tutti hanno il domicilio per quello però che la costituzione all'articolo 36 dice che il lavoratore ha diritto a una retribuzione che garantisca a lui e alla famiglia una vita libera e dignitosa vedete come tutto si lega per fare in modo che diventi vero quel che dice l'articolo 3 è lì la costituzione la costituzione si realizza nel momento in cui l'articolo 3 primo comma diventa vero e allora io non posso dire che mi sono divertito perché è pesante questo lavoro di andare a cercare di evidenziare per gli articoli più importanti ce ne sono anche di importanti che non compaiono nel testo perché sarebbe stato troppo complicato non so per esempio avrebbe meritato secondo me l'articolo 111 che è quello che riguarda il cosiddetto giusto processo e però sarebbe stato troppo tecnico e quindi ci si sarebbe anche persi ma è per quello che sono andato a cercare di evidenziare quali sono proprio le disclasie che esistono tra la costituzione per come è e la costituzione per come l'abbiamo fatta perché attenzione e se la società continua a essere verticale se continua a essere discriminatoria siamo tutti a rischio siamo tutti a rischio e credo che delle dimostrazioni ce le abbiamo continuamente e io condivido molto quel che diceva Gustavo Prima il professor Zagrebeschi quando diceva ebbè insomma dobbiamo anche stare molto attenti a come la trattiamo la costituzione perché ha bisogno di essere considerata per quello che è e invece da una parte viene tirata da un'altra parte viene negata e poi la si porta in giro ovunque è la Madonna Pellegrina sì per cui a un certo punto senza attenzione senza che generalmente la si conosca io credo che anche no lasciamo perdere perché se no non va bene e no perché mi veniva da pensare che anche nell'ambiente che è chiamato a praticare la costituzione professionalmente ma non lo so se tutti la conoscono o non la conoscono per davvero a me è successo quasi 50 anni fa voi non so se sapete che i magistrati quando entrano in magistratura fanno un periodo di tirocinio che dura adesso durerebbe un anno sei mesi però siccome ci sono pochino vabbè queste robe durano un pochino meno e allora io curavo il tirocinio e cioè l'apprendimento delle prassi ogni tanto arrivava un uditore allora si chiamavano così i 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 in tirocinio allora si chiamavano uditori giudiziari non è cambiato niente salvo il nome noi abbiamo una passione a cambiare i nomi le celle si chiamano camere di pernottamento ma sono uguali precisi identiche a prima noi abbiamo questa questa convinzione che le parole abbiano un'efficacia evocativa tale da riuscire anche a cambiare la realtà le celle sono come prima e allora avevo chiesto di studiare un aspetto che secondo me era costituzionalmente molto rilevante e aveva fatto un ottimo lavoro questa eccezione di incostituzionalità arriva davanti al tribunale e il pubblico ministero di turno la prima cosa che fa rinuncia a presentare l'eccezione e beh dico anche nell'ambiente giudiziario non è che sempre la costituzione sia osservata come dovrebbe essere e ci sarebbero anche delle voci non così vabbè lasciamo perdere grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti